salve a tutti ragazzi mi chiamo maurizio e siete su merlino merlino il mio canale che tratta il fai da te un bentornato a tutti coloro che già mi seguono da tempo tutti i miei iscritti e un benvenuto a tutti coloro che mi guardano per la prima volta l'invito ad andare a vedere tutti gli altri miei video se vi piacciono iscrivetevi e supportate il canale ringrazio tutti per i commenti per i like per le donazioni per tutto il resto specialmente negli ultimi video quelli della stufa pellet automatica che ho pubblicato poco tempo fa sono stato contentissimo ho avuto un grande successo nel mio piccolo mio piccolo canale e cercherò di fare sempre meglio comunque andiamo veloci oggi come avete visto già dal titolo andremo a fare una semplice manutenzione diciamo un rimessaggio al nostro decespugliatore dopo il periodo invernale diciamo che adesso la stagione dell'erba alta si avvicina è meglio trovarsi preparati andiamo a vedere cosa si può fare sul nostro decespugliatore buona visione allora andiamo a iniziare con la parte più semplice cioè la testa del nostro decespugliatore dove c'è la coppia conica e il rocchetto del filo allora rocchetto del filo inutile che vi parlo del rocchetto del filo ogni decespugliatore monta al suo adesso poi ci sono quelli universali che vanno bene dappertutto comunque non è questo perché ci sono un mare di video tutorial di come cambiare il filo e via dicendo li ho fatti anch'io vi invito ad andare a vedere sui miei video nella playlist giardinaggio e poi un'altra cosa è l'ingrassamento qui del coppia conica in questo caso abbiamo il peduncolo classico per ingrassare ci sono degli ingrassatori tipo questo piccolini che spingendo fanno l'azione di spingere il grasso all'interno sono fatti apposta per piccoli utensili piccoli macchinari non hanno tanta pressione non usate quelli quelli grandi che si usano per i macchinari con la leva perché hanno troppa pressione andreste a rovinare la coppia conica se non avete non tutti i decespugliatori sono uguali non tutti hanno questo questo ingrassatore qui molti hanno solo un dado chiuso come ingrassarlo svitate il vostro dato vendono i tubetti di grasso apposta svitando il dato vedrete la maggior la stragrande maggioranza la filettatura del tubetto tipo come il tubetto di dentifricio svita del tappo la filettatura che è attorno dovrebbe essere la stessa che qui quindi avvitate il vostro tubetto alla coppia conica e schiacciate e ingrasserete il tutto mentre ingrassate fate girare un po il piatto in modo che il grasso all'interno si distribuisca bene dappertutto un'altra cosa vi lascio l'invito qui sopra per andare a vedere il video di quello che ho ideato per non far incastrare l'erba all'interno qui del piatto fra la coppia conica e il mozzo che gira un semplice barattolo tagliata a misura con un buco sotto comunque andate a vedere il video così vi sarà più chiaro adesso passiamo sopra verso il motore allora siamo ragazzi siamo passati al motore iniziamo dall'esterno andiamo a vedere iniziamo a vedere il filtro dell'aria allora logico io vi faccio vedere su questo mccalloc ha più di quasi 25 anni questo decespugliatore quindi è un ricordo di famiglia quindi cerco di tenerlo il meglio possibile perché ho un ricordo affettivo anche per questo decespugliatore andiamo a vedere il filtro dell'aria ogni come dicevo ogni decespugliatore ce l'ha posizionato a suo modo comunque con un paio di viti possiamo levare il coperchio leviamo il coperchio vedete e troviamo il filtro dell'aria ovviamente questo è fatto in questo modo altri ce l'hanno fatto a circolare fatto a spugna tipo quello delle macchine fatto di cartone questo ha una semplice spugnetta che andremo a cacciare piano piano ecco qua come vedete è una piccola membrana di di tessuto andremo a lavarla con del detergente diciamo delicato ecco più delicato possibile la terremo a bagno ci daremo una bella soffiata piano piano non andiamo asciugarla strizzandolo che deve asciugare così se no la deformiamo e la rompiamo una volta fatto questo asciugato è pronto per essere rimessa per essere rimessa al suo posto in questo modo vedete che sicuramente quando lo andrete a soffiare sarà ricca di olio sarà impregnata più che altro di olio se è tanto impregnata di benzina allora vuol dire che c'è qualcosa che non va nel carburatore bisogna carburarlo o altro ma l'olio è quasi normale che ci sia e questo primo passo il carburatore allora io vi do un consiglio il carburatore è piccolissimo dentro contiene delle membrane dei passaggi obbligati particolari vi dicendo se il desespugliatore vi parte va bene non toccatelo non state a tocca niente perché una volta aperto il carburatore magari rischiate che vi si rompe la guarnizione che va sulla testata poi non la trovate poi bisogna rifarla è tutto un via dicendo se va bene non state a toccare niente una spruzzata all'esterno una bella pulita per levare residui d'erba o via dicendo per il funzionamento meccanico corretto ed è tutto a posto e il filtro dell'aria l'abbiamo visto andiamo avanti andiamo avanti ragazzi passiamo alla alla candela che oltre al motore diciamo è il cuore del nostro del nostro macchinario la candela logico più o meno ce l'hanno posizionata sopra la testata tutti quanti c'è la sua pipetta si stacchiamo la sua pipettina molliamo con la chiave e andiamo a svitare io l'avevo già fatto per velocizzare il video abbiamo la nostra candela ogni motore al suo tipo di candela cercate di mettere sempre se avete ancora il libretto di manutenzione della macchina io più o meno sono non ce l'ho più non ho più niente del motore perché essendo vecchissimo non ho più solo il nome del motore posso andare solo a fare una ricerca su internet per vedere la casa che cosa propone comunque più o meno le candele per questi macchinari sono più o meno le stesse cosa cosa vedere della candela allora prima cosa se ha incrostazioni vediamo se ha incrostazioni non si riesce a mettere a fuoco questo io a dire la verità gli ho già dato una pulita però era solo un po' umidiccia non aveva incrostazioni se proprio vediamo che i contatti sono sporchi nella parte interna un po' sopra e il polo sotto con un pezzettino di carta abrasiva ma fina 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 la infiliamo dentro e ci diamo una passata così per liberare bene i contatti in modo che la scintilla vada bene se poi avete il libretto delle manutenzioni che vi dice anche la distanza fra il polo principale e la massa sopra di quanto deve essere vi aiutate con uno spessimetro e mettete la candela nella posizione giusta io non lo uso mai e lo faccio sempre occhio più o meno mi guardo più o meno l'altezza come deve essere poi posso anche andarla a mettere nella pipetta la faccio poggiare su una parte metallica do l'avviamento e vedo la scintilla se scocca bene una volta fatto questo una volta ripulita magari con un piccolo ferretto lo passiamo all'interno e via dicendo per pulire tutto quello che c'è da pulire una bella asciugata una pulitina una soffiata e poi la rimettiamo al suo posto e questo è la candela andiamo avanti eccoci qua ragazzi andiamo avanti adesso andiamo su qualcosa di un po più serio allora per poter procedere dobbiamo innanzitutto scollegare il nostro carburatore dal filo dell'acceleratore e i due filetti che vi sono collegati vicino per scollegare il carburatore basta svitare semplicemente un po il ten di filo accelerare un pochino a mano o aiutandosi con il cacciavite scusate ma con i guanti io non sono capace a lavorare e far uscire fuori il filo dell'acceleratore per poi poterlo sfilare svitiamo questo perché c'è questa massa attaccata vicino lo leviamo completamente per poter e lo rimettiamo a posto per non perderlo poi abbiamo il filo della corrente e andremo a staccarlo ecco qua l'abbiamo staccato il nostro carburatore è libero perché abbiamo fatto questo perché andremo a controllare la frizione che all'interno di questo cono diciamo così la frizione del motore per farlo vi consiglio di svuotare il serbatoio completamente io già l'ho fatto in modo da poter tenere il motore capovolto in qualunque lato quello che dobbiamo andare a fare ora è mollare questa morsettiera qui questo modo in modo da separare l'asta dal nostro motore e poi andremo a liberare la frizione intanto andiamo a levare questo e sfiliamo l'asta basta svitare questi due bulloni il morsetto si allenta e sfiliamo l'asta dall'interno eccoci qua abbiamo mollato la nostra flangia e abbiamo sfilato la nostra asta questo è il nostro motore libero come vedete qua si vede l'asta mille righe che arriva fino in fondo la nostra coppia conica poi approfitteremo per dargli anche una piccola lubrificata una piccola ingrassata andiamo avanti ragazzi dopo aver smontato la nostra asta andiamo a smontare il nostro blocchetto allora come vedete il colore è cambiato perché ho approfittato che l'ho levato prima di farvi vedere adesso gli ho dato una verniciata per poter concludere il video finito diciamo abbiamo smollato i quattro dati che lo tengono io l'ho già levati l'ho già smollati per velocizzare il video e andiamo a estrarre il blocchetto all'inizio sarà un po duro col martello piano piano gli diamo qualche tocchetto intorno e vedete che viene via e poi viene via il pezzo questo è il pezzo all'interno c'è la ghiera che gira tipo come il volano del del vecchio ciao del vecchio si motorini di una volta anche adesso si usa il sistema a frizione come vedete all'interno so se possiamo vedere c'è l'albero mille righe che va innestato con l'alberino del nostro della nostra asta e questo l'abbiamo levato ci abbiamo dato una bella soffiata una bella pulita abbiamo visto che non c'erano incrostazioni all'interno così che potrebbe rovinare le ganasce e gli abbiamo dato una bella pulita e questo è a posto adesso passiamo alla frizione come vedete fatta con due ganasce mi aspettavo di trovarle molto più consumate e invece sono in perfetto stato ecco illumina un pochino di più che possiamo magari vedere meglio allora adesso bisogna andare a smollare questo dato io l'ho già smollato con la chiave farete un po di fatica dovete trovare un buon sistema per tenere ferma la ghiera e mollarlo se avete una pistola la cosa è molto rapida si svita sempre a sinistra come il dati normali leviamo il suo dato la sua rondella che tiene il tutto schiacciato e piano piano estraiamo ha un mille righe anche lei estraiamo la nostra frizione questa è la nostra frizione dietro alla molla questa c'è la circolare che tiene compresso così le ganasce invece se non sono altre che hanno la molla trasversale in questo senso che le tiene schiacciate il sistema è lo stesso io ci ho dato una bella pulita una soffiata non metto grasso io gli altri non lo so come fanno ma io non metto mai grasso perché girando il grasso potrebbe uscire e potrebbe andare sulle ganasce limitando il lavoro il suo lavoro diciamo se va a scivolare se va a scivolare qua sopra si impasta tutto non fa il suo lavoro scivola e non vi gira il piatto e questa è la cosa se poi vedete che la molla allora la molla se trovate la molla rotta le molle si possono trovare di ricambio queste qui altrimenti se io adesso non so quanto può costare una frizione penso che stia si aggiri sui 10 euro una frizione intera se vedete che è consumata che c'è la molla rotta si non vale la pena comprare solo la molla comprate tutto il blocchetto lo mettete e andate avanti per altri vent'anni qua ho dato una bella soffiata abbiamo pulito e adesso andiamo rimontare il tutto pensa che sia stato chiaro adesso andiamo a rimetterla nel suo alloggio mettiamo la sua rondella mettiamo il suo dato andiamo a restringere e poi andremo a rimontare questo in questo senso eccoci qua ragazzi allora andiamo a innestare l'asta abbiamo messo un filino di grasso nel mille righe del motore un filino di grasso qui all'albero della dell'asta e adesso andiamo a inserirlo eccoci qua ragazzi passati un paio di minuti bisogna giocare un po l'asta fra i due mille righe per riuscire a incastrarla bene abbiamo stretto la sua morsettiera e adesso è sistemata adesso andiamo a ricollegare il tutto prima cosa non ci dimentichiamo la massa che era qui nel tendi filo la rimettiamo lo avvitiamo tutto in modo che il filo non faccia sforzo rinfiliamo il nostro filo andiamo ad accelerare teniamo questo alto questo lo mettiamo così mettiamo in posizione incastriamo ecco qua il nostro filo è apposto adesso colleghiamo lo spinotto che porta la corrente ecco qua seriamolo bene ecco qua è a posto vediamo se accelera come vedete accelera poi provvederemo a regolare la tensione del filo adesso rimettiamo il suo cappuccio dell'aria e andiamo avvitare il tutto ragazzi ce l'abbiamo fatta anche questa volta ingegnarsi adeguarsi e raggiungere lo scopo il mio motto che lo condivido con voi abbiamo fatto il nostro rimessaggio al desespugliatore classico modello classico anche stile un po più vecchio e spero che la cosa vi sia stata utile se magari non l'avete mai fatto e vi volevate cimentare vedere vi ho fatto vedere il grosso di quello che si può fare a un desespugliatore niente io vi ringrazio mettete un like se vi è piaciuto commentate se avete qualche critica qualche suggerimento o anche solo per dirvi che il video vi è piaciuto se vi è piaciuto condividetelo fatelo girare anche con i vostri amici magari possono avere uno spunto da questo video anche loro cosa dire con questo io vi rimando al prossimo video mi raccomando iscrivetevi spuntate la campanellina per rimanere aggiornati di tutte le mie uscite e con questo un ciao ciao da Maurizio